Il maggio organistico presenta concerti d'organo e di musica antica. Buonasera e benvenuti a Il maggio organistico presenta. Questa sera ascolteremo dieci sinfonie introduttive a composizioni sacre di Bach. Nelle sue sinfonie introduttive Bach ha riutilizzato movimenti di opere strumentali composte in precedenza. Questa sera ascolteremo sei sinfonie per organo obbligato dalle cantate BVV 188, 169, 49, 146 e 35. Altre sinfonie hanno come strumento solista Lobo d'amore e invece troviamo altre che provengono da movimenti dei concerti brandenburghesi. Ascoltiamo dunque le sinfonie dalle cantate di Johann Sebastian Bach all'organo Tagashi Watanabe accompagnato dall'Ensemble Cordia direttore Stefano Veggetti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.